Un momento straordinario, un cortometraggio fuori concorso che vi vorrei presentare e che in qualche modo in questa giornata ricorre ancora il valore del lavoro. Andiamo a vedere Distanza Zero di Pierre Clionna. Produzione Inel Puglia. Applauso. 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 Ciao. Ciao. Ti servono dei fiori? Sì, certo. Quali? Beh, fiori gialli. Queste rose? Sì, sì. E quanto ti devo? Ah, no, no, è un regalo. Comunque, io sono Dario. Sara. Scusami, io devo andare. Ok. Torna a trovarmi! Torna a trovarmi. Torna a trovarmi. Torna a trovarmi. Torna a trovarmi. Chi è? Signora, consegna. Ehi, ciao! Sei nuovo? Non ti ho mai visto in gira a quest'ora. No, l'avevo ruggiata un po'. Ma non è stato facile alzare il punteggio per questa fascia d'orario. Comunque, è proprio un sistema di merda, vero? E poi abbiamo troppi pressioni. In più ci mettono l'uno contro l'altro. Per me, è un sistema giusto. E chi non è in grado di sopportarlo, facesse altro. In effetti, stavo pensando di smettere. Oppure potremmo farci sentire. Come, scusa? Sì, beh. Potremmo mandare una lettera firmata da tutti noi. O contattare un giornalista, non lo so. Qualcosa del genere. No. Assolutamente no. Senti. Mollo è il tuo lavoro, se vuoi. Ma non ti azzardare a fare niente. Non provo, 1-2-0-6. Ehi, ciao Sara. Senti, ti faccio una nota vocale perché sono nel mezzo di una consegna. Pensa, l'ordine era talmente grosso che non entrano nel borsone. Sono stato costretto a portarlo a mano. Dovresti vedermi. Comunque, sai che non esiste un numero da chiamare se ci sono problemi con gli ordini? Ti devi sempre arrangiare da solo. Ma, robe da pazzi. Comunque, altro che leva obbligatoria. Nanno da rider e vedi come la formi l'hanno laggiù in tua italiana. Sai, casa mia non è mai stata così piena di fiori. E questa come ti assi fatta? No, non è niente. Sono i rischi del mestiere. Ma non vi danno delle protezioni? No. E se le voglio, devo pagare. Ehi, tranquillo. Intanto faccio un'ultima settimana e poi smetto. Va bene? Va bene. Va bene. Ok, ok. Guarda, il cielo piange il mio ultimo giorno da rider. Ma che audio terribili ti mando? Solo che non posso farne a meno. Sai, non vedo l'ora di rivederti. No, stasera cucino io. Ok? È che prima di conoscerti mangiavo solo surgelati e cibo da fast food. Sei tu che mi hai fatto tornare la voglia di cucinare. Comunque, hai mezz'ora per preparare un bel centrodavola a fiorito. D'accordo? Sto facendo la mia ultima consegna e poi sono tutto tuo. So, sei tu che mi hai fatto. 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 C'è scritto Gilionna Glionna Ah ho sbagliato, non ho letto male Produzione Inail Puglia Sono in sala So che sono presenti anche L'attore e l'attrice protagonista Diego Graneri E Fabiola Presti Avvicinatevi Regista tutti, fate il giro E avvicinatevi qui Chiediamo anche di avvicinarsi Al presidente dell'Inail Puglia No, è il direttore generale Direttore generale dell'Inail Puglia Giuseppe Gigante Venga dottor Gigante, si avvicini Anche qui Un momento che ricorda l'importanza Del valore del lavoro La sicurezza, prevenire Credo che stiamo entrando In un momento importante Direttore del microfono Perfetto Buonasera a tutti Devo dire che abbiamo fatto Grazie a Radio Ammil Facemmo un'intervista Delle solide Che presentano I stati d'avanzamento Del festival Che devo dire Se uno vuole vedere Come dire Il cantiere Tulipani Sida Nera Basta che si collega Sul Radio Ammil E assiste Passo dopo passo A quello che succede Ci hanno messo insieme In palinsesto Con il direttore Gigante Eravamo insieme Dopodiché mi arriva Una telefonata Della dottoressa Riefolo Che mi dice Che in realtà C'era un prodotto Molto importante Che trattava Questi temi Parlato subito Col direttore artistico Come dire Assolutamente L'abbiamo accolto Anche su Indirizzo Del presidente nazionale Dell'Inail Di Franco Bettoni L'abbiamo accolto All'interno di quello Che era Il programma artistico Paola a te Eh sì È stato veramente Interessante Sicuramente Mi ha colpito La tua narrazione Il momento Molto Iniziale Molto commomente La storia d'amore Il lavoro E poi scoprire Quando insomma Alla fine Mi sono informata Chi è questo regista Ti scopro Giovanissimo Un occhio attento E Anche i particolari E i dettagli A tutta la costruzione Di un Di una narrazione Audiovisiva Da grande regista Fermato Quindi ti auguro Di proseguire Su questa strada Come è nata L'idea Di produrre Proprio Di realizzare Questo cortometraggio L'idea Nasce Da una collaborazione Con appunto L'Inail Puglia Di voler creare Un prodotto Che possa Appunto Sensibilizzare Sulla tematica Della sicurezza Al lavoro E tramite L'incontro Con lo sceneggiatore Claudio Romanazzi Che ringrazio Anche se non può essere Qui stasera con noi Abbiamo pensato Di dar voce Ai tanti rider Che appunto Spesso Se ne parla Non se ne parla Abbastanza Ultimamente Hanno finalmente Avuto Un inizio Per quanto riguarda Un contratto Ma la vita che fanno È davvero una vita Molto stressante Devastante E appunto Nel finale C'erano le tante Testimonianze Di tanti giovani Che o hanno perso La vita O che hanno fatto Comunque un incidente E noi ci siamo Appunto Ispirati A tutti questi racconti Che sono appunto Tanti Allora Parola Al direttore Generale Che Come dire Se vuole anche Anticipare Del perché Decidete Di Realizzare Quindi Di produrre Questo Questo corto E poi invece Passiamo alla fase Cinematografica Buonasera a tutti Io sono il direttore Regionale Non il direttore generale Direttore Non ha zaccata una Praticamente Vai Vi posso assicurare La mia forte emozione Mai avrei potuto Pensare Immaginare Come dire Di essere qui Questa sera Io faccio ovviamente Un altro mestiere Però Abbiamo deciso Di produrre Di sostenere Questo filmato Perché Dietro questa vicenda C'è una storia vera Di un ragazzo Di Bari Che È venuto a mancare Proprio In occasione Di un incidente Stradale Il desiderio Che noi abbiamo sentito Da subito Al di là del talento Che insomma Era evidente Del regista Era quello di Contaminarci Noi come In Alpuglia Al da tempo Stiamo come dire Contaminando la nostra azione Dal punto di vista Prevenzionale Con il teatro Con l'arte Perché ci siamo resi conto Che esistono Delle modalità Di comunicazione Che sono Che vanno al di là Di quella istituzionale Ma che sono Estremamente Più efficace Questo video Ci ha permesso Secondo me Di fare un salto Di qualità Non perché Abbiamo sfruttato In maniera Sconsiderata Del talento Il talento Di Pierna Ma perché Abbiamo colto Come nel linguaggio Cinematografico Noi si possa In qualche modo Dare qualcosa Di più Io Prima il ministro Parlava Di rapporto Tra ecologia Ambiente E sicurezza Io prima di fare Il direttore regionale Sono stato Il direttore Provinciale Della sede Di Taranto Che ha la metà Delle malattie Professionali Di tutta la Puglia Quindi potete Immaginare Come la mia Il mio stare In trincea Praticamente Per nove anni Mi abbia forgiato Rispetto a tematiche Che sono Sì di natura Prevenzionale Tecnica Se vogliamo Ma hanno Un contenuto sociale Di particolare Di particolare Rilevanza In quell'occasione Io ho conosciuto Franco Bettoni Quando non era Presidente dell'INAIL E quindi Quando lui tutelava In maniera Come dire Forte La sua I suoi assistiti Beh ci siamo intesi Perché C'è bisogno Di fare Un salto Di qualità Voi Avrete sicuramente Letto Le ultime Come dire Anticipazioni Di carattere giudiziario Sugli ultimi infortuni Sul lavoro Non si tratta Di norme Non si tratta Di come dire Di un quadro Normativo Incompleto Si tratta Di applicare Le norme Di prevenzione Che esistono E di Non togliere I sistemi Di sicurezza Che sono posti A protezione Dei lavoratori Questa contaminazione Proseguirà Noi stiamo sposando Il tema del teatro Abbiamo portato in scena Degli infortuni veri Con delle scenografie Poi dicevo prima Abbandonare il cinema Allora Stiamo facendo Stiamo facendo Dei salti di qualità Perché in Puglia Poi insomma Il cinema Ha la sua rilevanza E ci temiamo È una terra di cinema Allora andiamo Allora direttore Iniziamo a dare un po' La motivazione Del perché Ho scelto In questo Mi sarei grata Se la leggesse lei Ho la luce di fronte Quindi mi scuserete È la difficoltà di tutti Premio Sorriso diverso Mensione speciale A distanza zero Regia di Pier Glion Per aver saputo Scavare Con una regia Sapiente Con grande Talento narrativo I momenti di vita Di un rider Diviso Tra un lavoro iniquo L'alienazione Di chi non realizza Di essere calpestato Gli affetti Gli amori E la vita Di tutti i giorni Il cortometraggio In pochi minuti Riesce ad offrire Spunti di riflessione Su un importante tema Qual è la condizione Di disparità sociale Di potere Contrattuale Ed economico Fuori controllo Delle nuove figure Lavorative Con semplicità Questo racconto Ritaglia Un frammento di vita Facendo di esso Il mezzo principale Con il quale Restituire l'umanità A chi rischia Di essere trasformato In un numero Svelandone La storia Complimenti A Lionna Io ne approfitterei Un attimo Per Visto che abbiamo Qua sul palco Gli attori protagonisti Veniamo più qua Direttore regionale Più qui Più qui Vai Sto il gigante Scendete tutti Scaliamo un po' Così riusciamo A essere inquadrati Perché il regista Se no scende E allora Ci raccontate Un po' Invece La vostra Impressione Di entrare Calarvi Nella parte Insomma Di poi Una persona Che voleva solo Fare il suo lavoro Beh Fondamentalmente Il mio ruolo Diciamo che È un po' Più da cornice Diciamo che Aiuta Ad affezionarsi Un po' Di più A quello Che è il protagonista Più che altro Per rendersi conto Lo facciamo vedere Il tuo viso Ah sì Scusate Non è più Così automatico Diciamo Più che altro Per rendersi conto Che davvero Comunque Molti ragazzi Al giorno d'oggi Che ancora Non hanno avuto Nemmeno Magari La possibilità Di provare Magari Un lavoro Migliore In condizioni Migliori Magari Si ritrovano Appunto A dover Sì Effettivamente Hai ragione Il rider è un po' Un lavoro di passaggio Non è il lavoro Definitivo E allora Il rider In questo momento Che Come ti sei sentito No? Quando insomma Se ne approfittavano pure Un po' di te No? Dovevi sopplire Le carenze Di un programma Che non andava A definire Magari Gli errori Di un Quindi hai portato Cioè La sceneggiatura Tutto Però insomma Andavi già in bicicletta È una domanda Io sì Un aneddoto divertente Che mi è stato chiesto Dopo che mi è stato dato il ruolo Quindi questo è stato divertente Ah sì? Si sono scordati di farmi questa domanda Pensa se dovevi guidare una barca Sarebbe stato imbarzante Però abbiamo fatto delle prove in bicicletta Sì sì Però lui tutto impaurito Perché comunque con lo zaino Le buste non è facile Quindi il casting non è stato fatto sul rider Più sulla faccia E poi gli odi Abbiamo cercato molto anche sulla faccia E che comunque potesse arrivare molto Anche con l'interpretazione Soprattutto Al massimo avrei messo le ruote dietro Come i bambini Le rotelline Le rotelline Esatto Allora No io a mio avviso posso dire Di essere stato super emozionato E anche onorato Per quale motivo? Emozionato perché Non vi nascondo Che è stata una delle mie primissime esperienze A livello cinematografico E onorato per quale motivo? Perché sapevo che sarei andato incontro A dover rappresentare tutte queste persone Che svolgono questo lavoro E che purtroppo Come appunto abbiamo fatto vedere La maggior parte Per fortuna Non la maggior parte delle volte Ma a volte succede Che ci sono delle disgrazie Delle persone Per un semplice lavoro Come hai detto tu Purtroppo perdono la vita E magari lasciano a casa Persone a cui si affezionano E tante altre cose Quindi io personalmente Sono stato davvero davvero emozionato Grazie Grazie Diego Grazie Grazie a Lina Il Puglia Al direttore regionale Giuseppe Gigante Per questa iniziativa importante E complimenti a Pier Glionna Per questo cortometraggio Posso dire solo una cosa? Vai Poverino Perché si sbagliano sempre E' Lionna Non Glionno Grionno Gionna E' Lionna La G non si sente No è Lionna 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 Poverino Si sbagliano sempre Mannaggia Ti porterò nella memoria La targa è come al solito sul nostro grande schermo E poi la dirò lì E sarà consegnata Grazie 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 Diego Sì Abbiamo Grazie a tutti